Buonasera e benvenuti a Giallo Toscana. In questa puntata ci occuperemo di tre argomenti perché oltre all'emergenza coronavirus ci sono degli aggiornamenti da dare a voi che ci seguite da caso ormai da settimane su questo argomento, quindi ci sono degli aggiornamenti importanti che daremo. Oltre a questo parleremo anche di cronaca perché c'è stata una tragedia sfiorata ad Albiano Magra nei pressi di Aulla, siamo in Lunigiana, in provincia di Massa, dove il ponte sul fiume Magra si è letteralmente adagiato sul fiume, si è praticamente quasi polverizzato come se fosse stato di carta pesta, una tragedia sfiorata, dicevamo, per fortuna e anche per l'emergenza coronavirus il traffico era quasi inesistente in quel momento e allora sono rimasti feriti però due conducenti di due furgoni seppur non in maniera grave. La Procura della Repubblica di Massa ha ordinato un'inchiesta per far luce su tutto questo e quello che è accaduto. Poi il secondo fatto di cronaca perché c'è stato un fatto di sangue a San Gimignano in provincia di Siena dove un uomo di 86 anni ha sparato tre colpi di pistola al vicino di casa, Reo secondo lui, di fare troppa confusione. Peccato che quest'uomo di 86 anni aveva già ucciso un altro vicino di casa 40 anni fa e aveva scontato più di 20 anni di carcere proprio a San Gimignano. Tutto questo nella nostra puntata di Giallo Toscana ma andiamo proprio nei pressi di Aulla ad Albiano Magra per capire che cosa è accaduto in questa giornata, in un giorno di un mattino a metà mattinata, quando il ponte sul Magra si è letteralmente sbriciolato. Vediamo. Poteva essere una carneficina il cedimento del ponte lungo 300 metri che sovrasta il fiume Magra e collega Albiano Magra con Aulla, un'opera fondamentale costruita nel 1908 e rifatta dopo la seconda guerra mondiale. Intanto è scattata subito nel pomeriggio di ieri l'inchiesta della procura di massa Carrara per il momento del fascicolo è contro i gnoti ma c'è già un'attività di indagine per capire se ci sono state omissioni e o imperizie nella manutenzione del ponte e nei controlli che sono stati svolti. Anche ANAS ha avviato un'indagine interna per fare luce su quanto avvenuto. I carabinieri hanno effettuato una prima ispezione sul ponte messo sotto sequestro, ispezione della quale poi riferiranno in procura. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Intanto il sindaco di Aulla, Roberto Vallettini, ha firmato un'ordinanza ad hoc per aiutare la popolazione, considerate anche le limitazioni dettate dal coronavirus per consentire a chi vive dal bianomagra, di andare nel comune di Bolano, nello Spezzino, per poter accedere a una serie di servizi come istituti di credito, ufficio postale, negozi di alimentari e supermercati. Il sindaco ha anche richiesto di concedere a residenti e lavoratori il passaggio sul tratto autostradale in modalità gratuita. Il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, si è detto disponibile come commissario per la ricostruzione del ponte. Se mi incaricano, purché mi diano gli stessi poteri dati ad esempio al sindaco di Genova, sono a disposizione per fare una cosa in tempi rapidi, impegnandomi al massimo. Sulla questione è intervenuta anche Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea CGL Toscana, che ha ricordato che la manutenzione delle infrastrutture deve essere considerata una priorità. Nel frattempo, da più parti si auspica che la ricostruzione sia rapida. Immagini davvero terribili quelle che ci sono giunte grazie ai Vigi del Fuoco da Albiano Magra, perché questo ponte che si è letteralmente distrutto in pochi secondi, evocando anche spettri del passato come il ponte Morandi di Genova. Buonasera all'avvocato Filippo Belagamba che è qui con noi a Giallo Toscana e buonasera in collegamento telefonico con l'avvocato Massimiliano Manzo, buonasera avvocato. Buonasera a tutti voi. Allora, prima di partire con questa notizia di cronaca, ne avremo due nella nostra puntata, un saluto particolare da Filippo Belagamba, è vero? Sì, volevo ringraziare la televisione, mi consente di fare questi dieci secondi, volevo fare gli auguri a mio padre che compie 80 anni, grande uomo nonché mio padre, quindi ci tenevo molto a questo, grazie Vittorio. Bene, naturalmente gli auguri sono comuni di tutta la squadra di Giallo Toscana e della nostra redazione. Allora, Filippo, che cosa è accaduto ad Albiano Magra? Incredibile, è una vicenda che ho detto evoca un po' gli spettri di Genova, anche se con il dovuto ridimensionamento, però insomma è stata una brutta storia. Sì, è una brutta storia e il nostro ordinamento, per entrare subito sul giuridico, prevede appunto che i reati siano anche e soltanto di pericolo, in questo caso il pericolo per fortuna non si è tradotto in un danno, inteso come lesioni o meglio diciamo omicidio, perché le lesioni ci sono state anche se non gravi e soprattutto non di un numero indeterminato di persone come potrebbe essere quando accadono fatti che pregiudicano il bene della incolumità pubblica. Qui la polemica, Vittorio, subito si è innescata perché noi siamo reduci da quella tragedia del Ponte Morandi e è una tragedia che poi aveva anche acceso un dibattito politico sull'affidamento a una società privata delle infrastrutture e della manutenzione. Qui l'affidamento era pubblico perché si tratta dell'ANAS e quindi alcuni già si sono fatti sentire per far capire come la regolamentazione debba essere a norma di legge non tanto perché è affidata a un privato o a un pubblico ma perché ci si deve occupare di questi fatti e in questo caso il virus ha avuto un effetto paradossalmente positivo perché probabilmente l'unica ragione per cui non si è tradotto in un danno, come dicevo, un danno serio alla vita delle persone è che non c'era la possibilità di circolare o comunque estremamente ridotta. Però questo ovviamente non toglie le responsabilità, il reato è quello del disastro colposo che ripete un reato che presuppone un pericolo, un pericolo di un disastro, un disastro è un concetto giuridico che viene equiparato ad un accadimento macroscopico che può creare un danno a un numero indeterminato di persone e questo mi fa evidente perché un ponte che crolli e come dicevi bene te si sbriciola evidentemente è un pericolo concreto. Sì nel mirino per quanto riguarda il ponte Morandi vi ricorderete le polemiche intorno diciamo alle concessioni che venivano date per la manutenzione delle strutture alla società autostrada, adesso invece c'è un'altra azienda, l'ANAS, un'azienda storica. Avvocato Marzo che deve essere fatto di questa brutta storia? Buonasera, concordo con voi che sono immagini impressionanti anche perché non è stato un cedimento diciamo parziale o ma si è proprio, sembra una scena di un film, insomma si vede su un ponte che si accattoccia hai detto benedetto Vittorio come se fosse di cazza pesta. Ma poi 300 metri eh, 300 metri. 300 metri. E poi ecco un'altra cosa, una valutazione che forse non abbiamo fatto è che in questo caso non ci poteva essere nemmeno un carico perché insomma fortunatamente per una volta con un'influenza positiva questo maledetto Covid ha evitato che ci fossero tanti veicoli sopra e sicuramente quindi il ponte non era caricato, non era con peso ulteriore e quindi questo crollo così fa pensare che veramente non ci sia stata alcuna forma di manutenzione e controllo insomma perché è veramente impressionante, ecco ripeto una scena da film che ha riportato alla mente quella tragedia terribile del ponte Moratti, l'hanno perso la vita a tante persone e questa volta è andata bene solo per una casualità. Vi coinvolgo prima del break su due argomenti, il primo erano settimane che i cittadini in particolare gli automobilisti che si muovono da Ulla che vediamo in lontananza verso la provincia toscana ma anche verso la Spezia che si lamentavano della presenza di crepe anche piuttosto evidenti sull'asfalto del ponte, l'ANAS aveva effettuato dei controlli si leggono in alcune agenzie ci fu un sopralluogo addirittura ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano condizioni di pericolosità. Filippo Bellagamba e poi Massimiliano Maso, prego. Sì, evidentemente diciamo anche se le valutazioni ex post sono sempre più semplici di quell'ex ante qui bisogna che quell'ex ante e quell'ex post concidano, cioè ora non riesco a capire in che modo questi controlli siano stati esercitati se poi in effetti, come diceva anche Massimiliano senza nessun carico particolare, senza nessuna pressione che peraltro deve essere fisiologica perché il ponte è fatto proprio perché le macchine ci passino sopra, si è sbriciolato ripeto, accartorciandosi su se stesso come se non fosse di un materiale tale da poter sostenersi. Ecco, quindi controlli, ora questo sarà alla magistratura chiaramente verificare in che modo ma soprattutto ricostruire, fare una ricognizione anche cronologica dell'attività di manutenzione nel tempo. E do un ingrediente più a Massimiliano perché lui stesso diceva che per assurdo l'emergenza Covid-19 ha diciamo bloccato l'80% del traffico perché quel ponte che collega due strade provinciali quotidianamente nei giorni feriali è attraversato da decine di automobili e anche da traffico pesante. Massimiliano. Certo, infatti bene ha detto Filippo, cioè il ponte deve essere, la sicurezza deve essere testata come se fosse a pieno carico, cioè bisogna anche mettersi nell'ottica che potrebbe formarsi una fila di veicoli pesanti e meno pesanti sul ponte stesso, è allucinante che sia caduto senza il carico sopra. Ora mi chiedo però, al netto della problematica molto spesso, diciamo purtroppo frequenti in Italia sulle spese, i fondi di spese e tutto, ma ci sono persone che hanno certificato una sicurezza che deve prescindere poi dalle segnalazioni dei cittadini perché ci sono delle opere che sono magari ad occhio nudo perfettamente diciamo in manutenzione, quindi perfettamente e apparentemente solide che poi però possono avere dei vizi strutturali. Ora mi chiedo, insomma, queste persone devono fare le certificazioni, cosa abbiano certificato e cosa abbiano controllato perché insomma le segnalazioni sulle crepe dei cittadini sono un di più, ma un di più direi anche inutile rispetto a una sicurezza così importante. Non c'è dubbio. Grazie Massimiliano, ti lasciamo al tuo lavoro perché sappiamo che in questo weekend di Pasqua tu sei al lavoro. Grazie del collegamento e ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Ancora auguri al padre di Filippo. Ecco, c'è la notizia come diceva il pezzo di Gigliola Caridi anche che il ministro dei trasporti ha nominato come commissario per la ricostruzione il presidente della regione toscana Enrico Rossi perché insomma quella parte di arteria è una parte di arteria fondamentale per il trasporto intorno all'area della Lunigiana e della Garfaniana. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi darò un altro input a Filippo Bellagamba su questo argomento e poi parleremo come di consueto, ogni settimana lo facciamo, dell'emergenza Covid-19. A fra poco. A Giallo Toscana stiamo parlando del crollo del ponte ad Albiano Magra che collega due paesi, uno in Toscana quindi in provincia di Massa che è appunto Albiano Magra, l'altro è Santo Stefano Magra che si trova in provincia della Spezia. La seconda notizia che faccio commentare all'Avvocato Bellagamba è quella relativa al fatto che la Procura starebbe per acquisire i tabulati dei sismologi per capire se qualche scossa di terremoto che si era verificata alcuni giorni prima di questo evento che è accaduto l'8 di aprile, avrebbe potuto incidere sul collasso poi del ponte. Filippo. Sì, questo mi pare interessante come notizia perché probabilmente la metterei in contatto con l'altra notizia, cioè che c'è stato un sopralluogo poche settimane fa, perché il sopralluogo di poche settimane fa non esclude ovviamente la responsabilità, però lo riesco davvero a non comprendere come sia stato possibile che vi sia stata un'attestazione di non criticità in tempi così recenti, cioè mi spiego, una omessa o ritardata manutenzione in un lasso temporale più significativo può essere comprensibile. Un sopralluogo di poche settimane fa e poi l'effetto è sbriciolamento lascia un po' perplessi. Questo poi ovviamente non esclude di per sé che la scossa di terremoto se c'è stata e dell'intensità che verrà verificata possa poi precludere alla responsabilità di coloro che avevano comunque un obbligo di attenzionare costantemente e secondo parametri ben precisi la sicurezza del ponte. Però certo forse spiegherebbe in qualche modo l'esito positivo della verifica antecedente perché non riesco a capire come si possa andare lì poco tempo prima e dire no, non c'è nessun problema e poi poche settimane dopo crolla. Quello che sconcerta, chiedo aiuto a Giovanni Testa, se ci può far rivedere un'immagine intera del cedimento del ponte sul fiume Magra, eccola qua, quello che sconcerta è che qui si tratta di un collasso totale, a differenza del ponte Morandi, anche a differenza delle altezze che c'erano sopra Genova rispetto all'attraversamento del fiume, eccolo qua, lo vediamo anche dall'elicottero dei vigili del fuoco. Qui il ponte ha ceduto totalmente, non una parte centrale e magari una parte rimasta ancora in superficie, ha ceduto tutta la struttura, 300 metri caduti in una parte del greto, lo vedete con questa specie di isola bianca e una parte sul corso d'acqua, quindi è una cosa stranissima, incredibile. Sì, è una cosa stranissima, ovviamente non siamo tecnici per capire come questo sia accaduto, certamente anche le dimensioni inferiori rispetto al ponte Morandi possono spiegare un diverso tipo di crollo, però senz'altro ribadisco, sarà interessante capire come sempre in Italia questo accade dopo, cioè dopo che le cose sono accadute, però bisognerà capire come sia stato possibile conciliare un sopralluogo di poco tempo prima e quindi un'attività di manutenzione certificata con l'esito di pochi giorni dopo. Ecco, intanto i sindaci dei comuni che appunto si attestano da una parte all'altra del fiume Magra hanno emesso delle ordinanze, una delle quali è quella che i cittadini possono spostarsi di comune per l'emergenza coronavirus per fare la spesa, per approvvigionarsi, cosa che nel decreto Conte che è d'aiuto a Filippo non è previsto perché gli spostamenti da comune a comune hanno delle necessità impellenti ma non la quotidianità per esempio di fare la spesa. Sì, è previsto che se questa quotidianità comporta però il posto in cui ti approvvigioni il più vicino possibile alla tua abitazione lo puoi fare. Comunque i sindaci hanno detto che i cittadini possono muoversi sia sulla provincia di Massa che su quella di La Spezia. La seconda cosa è che è stato disposto un altro provvedimento nel quale i cittadini, gli automobilisti che si muovono verso queste località non pagheranno il pedaggio dell'autostrada che è lì vicino, cioè l'autocamionale della Cisa che collega La Spezia con Parma. Questo per alleviare le problematiche e ce ne saranno fra poco anche quando torneremo, noi ce lo auguriamo al più presto, abbastanza vicini nel tempo, a una sorta di parziale o perlomeno verso una normalità che prevederà anche un traffico, uno spostamento più forte. Questo era il primo nostro argomento, adesso andiamo avanti con il nostro giallo toscano e ci occupiamo dell'emergenza coronavirus, Filippo, perché ci sono delle novità come io ho detto in apertura, è vero e così possiamo darle ai telespettatori. Sì, direi che ci sono due novità che attengono al tema giustizia. La prima è meramente cronologica, cioè abbiamo avuto l'ultimo decreto con il quale si prorogano i termini di rinvio delle udienze, di sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio. Questa è la dimostrazione del fatto che in questo caso la giustizia ha anticipato quello che fra breve verrà disposto, cioè quello che tutti chiamano il lockdown, cioè questa attività di sospensione dalla vita quotidiana alla vita ordinaria, dalla vita lavorativa, verrà prorogato da aprile a maggio e quindi la giustizia sia attrezzata in anticipo, questa volta rispetto alla prima tornata in cui eravamo in ritardo e tutto questo accadrà fino all'11 maggio, data dopo la quale si riproporrà il tema non dei rinvii to cure, ma della possibilità degli uffici giudiziari di disporre accorgimenti, misure eccetera per poter celebrare i processi a prescindere dalle urgenze. E qui si innesta un secondo argomento molto importante che in realtà ha due biforcazioni. La prima è come si celebrano questi processi, perché sta per essere approvato un emendamento al decreto Cura Italia nel quale si prevede che fino al 30 giugno, cioè fino al tempo dell'emergenza, le udienze, ancora non si sa bene in che termini, si celebreranno da remoto. E questo l'abbiamo già detto noi Vittorio in qualche trasmissione, crea dei problemi direi non indifferenti, anzi problemi molto significativi per la difesa, tanto è vero che si è elevata la voce dell'Unione delle Camere Penali, si è elevata la voce del Consiglio Nazionale Forense, perché è vero che c'è l'emergenza sanitaria e non è che agli avvocati non interessi la tutela della propria salute, anzi saremmo noi a dover rischiare andando in udienza, però è anche vero, come si diceva l'altra volta, che i processi che si svolgono in questo momento si svolgono in questo momento e non in altro e l'udienza da remoto pone dei problemi di tensioni forti col diritto di difesa. L'altro tema molto importante è quello di un documento che è stato pubblicato dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi che affronta il tema invece del sovraffollamento carcerario. Altro argomento su cui noi ci eravamo intrattenuti e lo affronta, ora magari lo vedremo, mi dirai te in che tempi, lo affronta diciamo a tutto tondo non solo con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, quella forma cioè di esecuzione della pena con il braccialetto elettronico di cui abbiamo già parlato, ma anche sotto profitto delle misure cautelari perché il senso di tutto questo documento molto ben confezionato e anche molto chiaro direi nell'esposizione è che l'emergenza deve comportare necessariamente un'eccezionalità di applicazione delle norme anche in ragione dell'impossibilità di difendersi adeguatamente in un istituto penitenziario, difendersi dal virus evidentemente. Non c'è dubbio. E quindi si dice in questo documento che per partire dal suo nucleo essenziale che è quello della detenzione domicilare, molto interessante rispetto a quello che noi avevamo detto l'altra volta, il Procuratore propone un'interpretazione diciamo estensiva della norma dicendo guardate che anche se non ci sono i braccialetti elettronici dobbiamo concedere lo stesso alla detenzione domiciliare. Questo in ragione del fatto che si dice anche nell'ambito delle misure cautelari questo è possibile, cioè vi è una giurisprudenza che si è resa conto negli anni che mancavano i braccialetti elettronici e quindi ha disposto che intanto si vada agli arresti domiciliari e poi... Per me si mancavano addirittura. Esatto. E intanto si vada agli arresti domiciliari e poi se ci sono verranno applicati. Non il contrario, come all'inizialmente si diceva, intanto rimane in carcere finché non c'è il braccialetto elettronico. E questo il Procuratore lo propone anche nell'interpretazione dell'articolo 123 che è stato introdotto recentemente, cioè di non attendere i braccialetti elettronici, di procedere immediatamente alla detenzione domiciliare. Allora, ora ci ritorneremo anche su questo argomento. Questo è il weekend di Pasqua e moltissimi hanno tonato in questi giorni preoccupati dal fatto che temevano l'arrivo di vacanzieri per le alte temperature, la primavera avanzata, il caldo, eccetera. Temevano soprattutto nelle località balneari della Toscana, dalla Maremma fino alla provincia di Massa. Sono state messe numerose ordinanze restrittive molto rigide. Mi viene un po' da sorridere perché non ci sarebbe bisogno se ci comportassimo tutti come prevede il regolamento, cosa che invece lo scomoriremo dopo nella terza parte. Queste cose non avvengono. Noi abbiamo scelto per farvi vedere i sindaci, come sono arrabbiati e che cosa hanno deciso per Pasqua e per Pasquetta. Poi la prossima settimana faremo un bilancio di quello che è accaduto in questo weekend. Abbiamo scelto Viareggio. Andiamo insieme a vedere con il sindaco del Ghingaro che cosa hanno preparato per evitare il rischio di sovraffollamento in questi giorni di vacanza. Le spiagge di Viareggio e Torre del Lago sono già chiusi al pubblico. Il sindaco di Viareggio, Giorgio del Ghingaro, ha firmato in anticipo l'ordinanza annunciata ieri e inizialmente prevista solo per il lungo weekend di Pasqua, una decisione presa dopo i controlli effettuati nelle ultime ore dal commissariato di polizia di Viareggio, che ha sanzionato altre 10 persone perché incuranti delle misure anti-Covid, tra chi da Massa era venuto a fare la spesa Viareggio e chi passeggiava 6 km lontano da casa. Questo è un fatto molto grave, gravissimo direi, che mi fa imbestialire e lo dico sinceramente perché sono ormai 4-5 settimane che chiedo di stare in casa e di uscire solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o per situazioni di emergenza. Ecco, questo fatto mi induce a prendere dei provvedimenti immediati. L'ordinanza, firmata a fine mattinata, ha come detto validità immediata fino alle 7 di martedì 14 aprile ed è estesa ad altre zone della città. È vietato dunque l'accesso agli arenini di Viareggio e Torre del Lago e alle zone immediatamente adiacenti, quindi la terrazza della Repubblica, Viale Marconi, Viale Margherita, il lungomolo del Greco, l'area antistante al porto turistico, Viale Europa in Darsena e la marina di Torre del Lago. Di vieto di accesso anche ai pedoni e ai ciclisti nelle pinete, sia di Ponente che di Levante, al Viale dei Tigli, al Belvedere Puccini di Torre del Lago. Se non si capisce che è il nostro interesse stare a casa e se non si capisce con le buone e si useranno maniere un pochino più forti. Quindi rimaniamo in casa. Allora eccoci tornati in studio a Giallo Toscana, abbiamo visto una città campione della nostra regione come Viareggio ma altre si sono adeguate come Forte dei Marmi, come alcune cittadine della Maremma ma anche in provincia di Massacarrara. Insomma c'è questo tipo di, che non dovrebbe esserci Filippo, del fatto di temere che la gente che ha la seconda casa possa riversarsi perché è una giornata calda e c'è il bel sole. Sembra un paradosso, purtroppo è già accaduto. Sì, è singolare. Io continuo a sostenere la tesi che la maggior parte, la grande maggioranza degli italiani stia rispettando le misure. Certo poi le eccezioni sono all'ordine del giorno perché a una regola c'è sempre un'eccezione. Ora l'idea di andare al mare sinceramente per questa Pasqua mi pare un'idea un po' un po' malsana e un po' bizzarra e fanno bene le autorità istituzionali a cercare di reprimerla in tutti i modi anche perché lo stesso oggi ho visto che vi era uno schieramento di polizia all'ingresso del casello dell'A11 proprio perché evidentemente ci sono dei sentori che qualcuno ne approfitti a qualunque ora anche del giorno per cercare di accedere a luoghi di villeggiatura. Intanto c'è un fatto di cronaca che rappresenta quasi un record, Avvocato Bellagamba, perché sulla Firenze-Siena a metà settimana sono stati fermati nove cittadini pakistani che si trovavano all'interno di un furgoncino, quindi erano stipatissimi, quindi saltate tutte le raccomandazioni sulla distanza fra una persona e l'altra, nove persone in un pulmino, in un furgoncino ed è stata combinata nei loro confronti una multa di 5 mila Euro, rappresenta quasi un record, immagino oltre alla denuncia perché questi fatti sono piuttosto gravi. Sì, allora, la sanzione abbiamo detto è soltanto amministrativa per quanto riguarda la violazione delle misure contenitive da emergenza Covid, non esiste più alcuna fattispecie di reato, per quanto riguarda la violazione della misura in quanto tale esiste soltanto, abbiamo detto, la fattispecie di reato dove si tratti di violazione della quarantena, cioè di coloro che sono soggetti che sono stati accertati come positivi e che nonostante questo girino per le strade. C'è stata una denuncia, Avvocato Bellagamba, perché uno dei nove pakistani non era in regola col permesso di soggiorno e già destinatario, fra l'altro, di un precedente provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Foggia. Si trattava di lavoratori stagionali, che andavano nei campi. Questo è un tema diverso, è un tema dell'immigrazione, quindi è un reato che comunque ci sarebbe stato a prescindere dal coronavirus. Per quanto riguarda il coronavirus, la denuncia, cioè quello per fare chiarezza, se no ai cittadini che non capiscono più che cosa stia accadendo, visto che le norme sono cambiate e non è così chiara la comunicazione, per chi viola le misure restrittive c'è una legge amministrativa, per chi viola le misure restrittive ed è soggetto positivo al virus e quindi sottoposto alla quarantena, avvia un reato. Altrimenti fatti specie penali che esisteva originalmente non esiste più. C'è stato un altro fatto di cronaca, questa volta alle porte di Firenze a Calenzano, quando un uomo praticamente ha scatenato una lite con un coltello da cucina, due persone erano in coda a un supermercato, per futili motivi, hanno discusso probabilmente per la distanza di sicurezza che si deve mantenere fra una persona e l'altra. Purtroppo accadono anche questi momenti di estremo nervosismo ad un mese ormai dalla quarantena. Abbiamo superato il mese e sinceramente è vero che non si può paragonare la restrizione che subisce chiunque rispetto all'attivismo solerte e senza tregua degli operatori sanitari, però al paragone rispetto agli operatori sanitari dobbiamo soltanto essere felici di stare a casa, però dobbiamo anche prendere atto che sono delle restrizioni che comportano dei sacrifici. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio perché poi dobbiamo sempre, questa è una cosa che va ricordata, dobbiamo sempre calibrarla sulla situazione personale, cioè non sto parlando dell'economica perché si aprirebbe un altro scenario molto complesso, ma dico anche sulla collocazione nell'abitazione, cioè ci sono delle abitazioni molto ridotte dal punto di vista della loro metratura, che non hanno sfoghi esterni, quindi con magari bambini che hanno la necessità di svagarsi, stare ristretti nell'abitazione è sentato un sacrificio, un sacrificio necessario, indispensabile, ma è un sacrificio. Come del resto ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, lo stavi accennando poco fa, le celle talmente strette e anguste dei nostri penitenziari, anche questo è un problema serio. Questo è un problema molto serio, riprendendo quello che dicevamo, molto importante quello che ci dice il provatore anche sulla fase cautelare, dice attenzione, importante arginare le richieste di misure cautelari, le misure cautelari noi sappiamo che sono quelle misure che intervengono prima della sentenza di condanna e che quindi intervengono su un soggetto che non è stato accertato come colpevole, soddisfano esigenze cautelari che noi conosciamo, il pericolo di fuga, il pericolo di inquirimento della prova, il pericolo di reiterazione del reato, però dice il provatore attenzione, qui i pubblici ministeri devono fare un avvaglio molto più prudente del solito per far valere quale principio? Il principio è che la custodia cautelare in carcere è una misura di carattere eccezionale, è l'extrema razza, cioè l'ultima possibilità, dobbiamo far leva sugli arresti domiciliari. Questo sia in fase cautelare, a maggior ragione perché ancora un processo non c'è stato, sia in fase esecutiva come dicevamo con la detenzione domiciliare che il produttore generale della Corte di Cassazione interpreta come dicevo in senso estensivo, cioè a prescindere dai braccialetti elettronici i giudici concedano la detenzione domiciliare perché è funzionale all'eccezionalità della situazione da coronavirus. Laddove c'è una popolazione però spesso anche dentro le carceri di persone straniere che non hanno una fissa dimora, che non hanno questa possibilità, c'è qualcosa che prevede una soluzione alternativa? Sì, ci sono questi centri di accoglienza, queste strutture che possono essere equivalenti al domicilio e fra l'altro aggiungo che il produttore generale propone anche un affidamento in prova al servizio sociale che è una misura alternativa molto importante che però per adesso è stata, come dire, sottotraccia perché qual è l'argomento, cioè l'elemento fondamentale? Il lavoro, cioè l'affidamento in prova vuol dire che il soggetto fa un lavoro di pubblica utilità. Ecco, lui dice, siccome il lavoro la stazione non lo ritiene elemento indispensabile, importante ma non indispensabile, diamo l'affidamento in prova, quindi una sorta di detenzione domiciliare ulteriore senza lo svolgimento di attività lavorative con l'aggiunta di certe prescrizioni per dire magari non uscire di casa in certi orari e se non per necessità, però ecco, anche qui adeguando si vede il senso profondo di questi suggerimenti, suggerimenti di queste proposte è adeguiamo gli strumenti giuridici alla eccezionalità della situazione perché la situazione è davvero eccezionale e come dicevamo l'altra volta si innesta su un problema già macroscopico, è quello del sovraffollamento carcerario che c'è sempre stato, continua ad esserci ma adesso è ancora più accentuato dall'emergenza sanitaria. Ecco, ora metterò in difficoltà l'avvocato Bellagamba con un'altra notizia di cronaca che è stata battuta dall'Ansa da Roma in questi giorni, più volte è stata ribadita questo tipo di grido d'allarme e cioè reiterati attacchi di hacker nei confronti delle piattaforme dove in questo momento da casa giovanissimi, giovani e anche studenti universitari stanno studiando per portare avanti il loro programma didattico, come del resto fa il professor Bellagamba per l'Università di Siena. Ecco, è un reato grave questo e siccome queste senalazioni poi sono state recepite dalla polizia postale, a che cosa si può andare incontro se verranno scoperti gli autori di questi attacchi di pirateria telematica? Ci sono reati assolutamente grave, sono reati informatici, ci sono diverse ipotesi graduate a seconda diciamo della gravità. Non lo sapevo, è una notizia che mi allarma perché come dicevi giustamente io faccio questo, cioè faccio didattico online, in realtà faccio questo adesso ma lo faremo perché è già... Lezioni in videoconferenza. Perché è già giunta una comunicazione del Rettore che ci annuncia che sostanzialmente in linea con quello che sappiamo le scuole e le università saranno le ultime a riaprire, quindi la didattica online deve essere acquisita dal docente come una forma di ordinaria didattica e in realtà non lo è mai stata. Poi ci sono già le università telematiche che questo lavoro lo fanno da tempo. Quelle c'erano già da tempo, noi eravamo tradizionali, cioè la maggior parte delle università italiane sono tradizionali e questo metodo lo stanno acquisendo, che è un metodo molto diverso rispetto a quello frontale, però ecco il fatto che poi ci si inserisca, cioè il crimine si inserisca nella novità è proprio un atteggiamento classico dell'evoluzione della società e il crimine che segue a volte addirittura anticipa. Io francamente da cronista, Filippo, non capisco lo scopo di questi hacker, ecco non riesco se è una sfida, non lo so, diciamo una battaglia a suon di computer per vedere se puoi e ti puoi entrare dentro queste piattaforme perché francamente non capisco nemmeno il movente, insomma. No, neanche io sinceramente non so nemmeno tecnicamente come si possa fare, mi farà piacere se l'hacker possa ascoltare la mia lezione, ma non credo sia questo il suo obiettivo, quindi non so quale sia sinceramente il movente. Posso fare una domanda che esula dai discorsi meramente giudiziari, anche se alle tue lezioni ovviamente si parla di diritto penale, si parla di giustizia, gli studenti come stanno vivendo Filippo Bellagamba a questo momento particolare dell'emergenza Covid? Ecco, gli studenti, questa è una bella domanda, mi fa piacere rispondere, gli studenti erano molto preoccupati perché ognuno giustamente pensa alla propria carriera e lo studente ha delle scansioni temporali che debbono essere rispettate, però bisogna dire che l'Università italiana, e questo mi ha fatto piacere anche leggere un articolo del Corriere della Sera di Aldo Cazzullo, le università italiane si sono tutte compattate nell'assicurare gli stessi servizi, con le dovute differenze operative, ma gli stessi servizi che avvenivano assicurati quando il virus non c'era, quindi lo studente non viene pregiudicato perché le sessioni di esami si celebrano, le sessioni di laurea si celebrano, le lezioni continuano, e infatti è un'attività che non ha mai avuto un arresto, non ha mai avuto una pausa, io personalmente sono in pari con le mie lezioni perché continuo a registrare utilizzando gli strumenti che mi sono messi a disposizione. Bene, in questo caso stavamo ovviamente parlando di una delle università più storiche della nostra regione, ma anche a livello nazionale, cioè l'Università di Siena. Bene, noi ci fermiamo per questo terzo round e torneremo a Giallo Toscana per occuparci di un terribile fatto di sangue perché purtroppo in questi giorni accadono anche queste cose, fra poco a Giallo Toscana. Eccoci tornati in studio e abbiamo cambiato il titolo di Giallo Toscana insieme a Filippo Bellagamba, adesso parliamo di cronaca perché purtroppo quello che è accaduto domenica scorsa a San Gimignano in provincia di Siena è un episodio particolarmente grave, non solo per il fatto che un uomo ha esploso tre colpi di pistola ferendo gravissimamente alla testa, allo sterno e a una spalla il vicino di casa, ma perché quest'uomo, pensate, 40 anni fa aveva ucciso sempre un vicino di casa per futili motivi. E che cosa è accaduto? Ve lo sintetizzo in 10 secondi poi sentiamo subito il servizio. Domenica intorno alle 3 del mattino arrivano delle chiamate ai carabinieri di San Gimignano perché l'uomo che poi si dimostrerà lo sparatore denunciava il fatto che il vicino di casa continuava a suonare ripetutamente il portone, la porta di casa, il campanello, insomma si era creato già da tempo una sorta di attrito fra i due. I carabinieri sono giunti poco prima e i carabinieri hanno cercato di riportare alla calma, evidentemente sembrava essere tutto tornato alla normalità, ma intorno a mezzogiorno quest'uomo ha preso una pistola, fra l'altro detenuta illegalmente, e ha sparato al vicino di casa tre colpi di pistola. In queste ore ci sono stati anche gli interrogatori di garanzia per lo sparatore che ha 86 anni e 40 anni fa era stato in carcere oltre 20 anni proprio per l'omicidio, come vi dicevo, di un altro vicino di casa. Il servizio dai colleghi di Siena TV. Convalidato l'arresto dell'uomo di 86 anni che Domenica a San Gimignano ha sparato tre volte contro il vicino di casa, un 58enne ora in prognosi riservata all'ospedale di Carigia a Firenze. Accusato di tentato omicidio, detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, questa mattina l'86enne ha dato la propria versione dei fatti al G. Pilaria Cornetti in un interrogatorio durato circa due ore. A pesare sulla situazione dell'anziano, c'è il precedente di un omicidio commesso nel 1981, per il quale fu condannato a 22 anni e 10 mesi di reclusione. E' domenica mattina, quando a seguito di ripetuti diverbi, l'uomo di 86 anni ha sparato tre colpi di pistola verso il vicino di casa, ferito e portato d'urgenza a Careggi, dove adesso lotta tra la vita e la morte. I proiettili hanno colpito il 58enne alla testa ed al torace, interessando un polmone. La sua situazione è complessa. L'uomo ha già subito alcuni interventi chirurgici e potrebbe subirne altri anche nelle prossime ore. La vicenda è avvenuta in Via delle Fonti, dove è presente una struttura residenziale con mini appartamenti utilizzati da persone anziane o fragili e che un tempo era a scuola elementare ed asilo nido. A difendere l'aggressore e l'avvocato Manfredi Biotti, la Fondazione Territorio Sociale Alta Valdelsa, dice Biotti, ha avviato il procedimento per la revoca dell'abitazione dei confronti del mio assistito. Così si pregiudica la possibilità a questa persona, che ha quasi 90 anni, di avere gli arresti domiciliari perché non ha un posto dove andare, avverte illegale. L'appartamento dell'86enne è stato messo sotto sequestro per ordine della Procura della Repubblica di Siena. Chiediamo che la giustizia faccia il suo rapido corso per un gesto efferato che offende la nostra comunità, dice il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci. Allora, lo sparatore Filippo Venagamba si chiama Luciano Catastini, perché è giusto ricordarlo. Purtroppo, quando commentiamo questi fatti, alla fantasia del delitto non c'è una porta che si chiude, perché anche in questo caso è una storia incredibile. 40 anni fa quest'uomo uccide un altro vicino di casa, sconta una pena pesante, 22 anni e 10 mesi e poi dopo 15 anni circa, anzi meno, circa 12, rifà la stessa cosa. Eh sì, qui è una situazione che impatta, come dicevamo fino adesso, sul sovraffallamento carcerario perché l'uomo, nonostante l'età, ha commesso un fatto di reato che segue ad uno precedente, quindi essendo stato condannato, già condannato, peraltro per lo stesso fatto, quindi sarebbe un recidivo specifico, è soggetto ad un trattamento sanzionatorio che comporta poi l'esecuzione della pena, comporterebbe poi l'esecuzione della pena in carcere. Questo nonostante l'età, perché vi è una norma che consente la detenzione domiciliare per ragioni di età a chi abbia compiuto al momento del fatto, al momento dell'esecuzione della pena, 70 anni, quindi da 70 anni in su, ma in questo caso non sarebbe applicabile. Nel servizio ho capito che c'è anche un problema attualmente di eventuali arresti domiciliari, cioè di arresti domiciliari in fase di cautelare, sto dicendo, non in fase esecutiva, perché non avrebbe più un luogo dove scontare questi arresti domiciliari, quindi nel frattempo... Vista anche l'età. Vista anche l'età, nel frattempo è in carcere, poi ovviamente bisognerà verifiare anche se il carcere è compatibile con le sue condizioni di salute, perché quello è un altro argomento, però certo è che, Vittorio dicevamo prima, il sovrappogliamento carcerario, poi purtroppo l'esigenza di giustizia, ci sono anche 86 anni che non possono beneficiare della detenzione domiciliare, perché se recidivi questo prevede l'ordinamento, non è possibile. Allora, nel dispositivo, ho bisogno di un tuo commento, il GIP che ha confermato la misura della custodia cautelare che era stata richiesta al PM, che si chiama Siro De Flammineis, il GIP non ha ravvisato pericoli per quanto riguarda pericolo di fuga o inquinamento delle prove, ma a pesare c'è stata la reiterazione del reato, dal momento che l'uomo ha alle spalle l'omicidio commesso nell'81. Il concetto è per così dire tautologico, la recidiva è cos'è? È la reiterazione del reato, qui la misura cautelare deve evitare il pericolo di reiterazione del reato, qui la reiterazione del reato è già stata in sé. Cioè, il soggetto che è stato condannato per uno stesso reato, poi lo ricommette, anche se a distanza di molti anni, dà una idea, una prognosi di pericolo di reiterazione abbastanza concreta, abbastanza evidente. Certo è che questo non è che comporta necessariamente la custodia in carcere, potrebbe portare agli arresti domiciliari come misura contenitiva nell'attesa del processo. Anche una perizia psichiatrica, avvocato, quella grande. Si sta, ora io non so che cosa deciderà di fare il difensore. Questo uccide nell'81, torna a casa, dopo un po' comincia a leticare di nuovo con un altro vicino di casa e gli spara anche a lui. Fra l'altro, da un punto di vista della qualificazione del fatto, è evidente a tutti che si tratta di motivi futili, quindi è uno dei casi nei quali si può, cioè nel quale l'ordinamento reagisce con la pena dell'ergastolo, perché il motivo futile è quel motivo banale, quel motivo che non potrebbe portare ad un'azione criminosa, tale è la sproporzione tra la ragione per cui io mi muovo, cioè la ragione per cui io compio l'azione criminosa e il fatto che la compia e che non dovrei proprio compierla, perché se non c'è una motivazione valida a sostegno e quindi significa che io sto semplicemente sfogando i miei istinti aggressivi e antisociali, quindi questo certamente non è un dato che attenua la posizione, ma anzi l'aggrava, proprio l'aggrava sia dal punto di vista del linguaggio comune, sia dal punto di vista giuridico, perché è un aggravante che poi eleva la pena dell'ergastolo e quindi questo è un ragionamento che il giudice fa senz'altro nel momento in cui dispone la misura. Quest'uomo ha 86 anni, qual è il suo destino? Il suo destino appunto, dicevo Vittorio, se noi stiamo alla stretta norma il suo destino è il carcere, perché essendo recidivo se venisse condannato, penso proprio che, mi dispiace per lui, ma lo sarà, verrà condannato e verrà condannato ad una pena che non consente la detenzione domiciale non per il limite di pena, ma perché quello sarebbe surrogato dall'età, ma per il fatto appunto che è già commesso un reato, peraltro della stessa specie identico, l'omicidio, anche se molti anni prima. Questo quindi determinerebbe necessariamente una pena che va in esecuzione carceraria, con l'unica ultima possibilità che, al di là della perizia psichiatrica, allora in quel caso non ci sarebbe una condanna in senso tecnico, perché non sarebbe imputabile, ma, dico, con l'unica eccezione della salute, cioè se poi le sue condizioni di salute sono incompatibili con la situazione carceraria. Quando comincia ad avere magari sopra i 90 anni, insomma, voglio dire. Quindi è chiaro che lì poi bisogna rimodellare, però, rimodellare, diciamo, la sanzione, però astrattamente, in linea di principio, il destino è il carcere. Allora, questa è una brutta storia, ve ne abbiamo purtroppo raccontate alcune, alcune anche singolari, meno gravi ovviamente, però fatti di sangue purtroppo in queste settimane ce ne sono state, anche se potremmo dire, visto che siamo un po' una sorta di barometro a giallo-toscana, con una percentuale che mi sembra si sia molto ridotta rispetto, diciamo, allo scorso inverno o a prima dell'emergenza Covid-19. Siamo arrivati in conclusione, vi lasciamo con una copertina speciale, Filippo, quella perché venerdì scorso c'è stato un compleanno speciale. Il 168esimo anniversario della Polizia di Stato, che ha confezionato un video straordinario proprio in chiave emergenza coronavirus, cioè con tutto quello che la Polizia sta facendo in questi giorni sul territorio per i cittadini. Noi vi facciamo vedere questo splendido video, complimenti e naturalmente buon compleanno alla Polizia di Stato, buon compleanno anche al padre di Filippo Bellagamba e noi, Filippo, ci vediamo la prossima settimana e con altri aggiornamenti, restate con noi perché a Giallo Toscana abbiamo sempre notizie importanti anche sull'emergenza coronavirus. Grazie Filippo. Grazie a voi. Via alla copertina finale con il 168esimo anniversario della Polizia di Stato. Grazie. 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 Grazie.